La meglio gioventù nel primo ore. Due fratelli si separano dopo aver tentato di salvare una giovane ragazza, Georgia, da un manicomio abusivo. I fratelli sono Nicola e Matteo, carati. I loro genitori sono Angelo e Adriana. La loro sorella maggiore è Giovanna e la loro sorella più giovane è Francesca. Mi chiama Francesca. I loro amici, i loro amanti e gli altri vanno alla deriva attraverso tra cui Georgia, che è lotta con problemi mentali ma la cui vita sembra seguire in parallelo. Nicola si qualifica come medico. Matteo esce il suo primo esame perché lui pensando di Georgia, notando che Georgia dall'istituzione è portarla con sé e Nicola, che sono in procinto di partire per un viaggio. Io in Norvegia. Alla fine, Georgia viene catturato dalla polizia e è riportato in manicomio. Matteo, pieno di tristezza e depressione, torna a Roma e si unisce all'esercito. Nicola continua a Norvegia e ottiene un lavoro come Taglia Lena. I fratelli si incontrano di nuovo a Firenze subito dopo il 1198-6 fiume Arno alluvione. Chiunicola incontra uno studente universitario, Giulia.